Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video sul canale Vi dico già che quello che state vedendo risale a ben 7 mesi fa, esattamente il 23 marzo 2021 E niente, abbiamo deciso di condividere questa strana situazione in cui mi sono imbattuto E ora vi racconto Praticamente stavo camminando qui vicino a casa mia Finché ad un certo punto vengo attirato da questo bellissimo gatto nero Mi avvicino finché noto che in realtà il gatto non era da solo Ma era in compagnia di un piccolissimo topolino di campagna Sono rimasto lì a guardare per diversi minuti finché poi ho deciso di documentare il tutto con un video Il gatto e il topo stavano letteralmente giocando assieme Un evento a dire poco bizzarro Niente, ora vi lascio al Davide del passato, noi però ci risentiamo dopo Ma c'è c'è lì un topo? Ma i gatti mica li mangiano i topi? Cosa porta a fai? Ma sei matto? Ma non è andato Ma non è che spavento Ragazzi io sono qua, devo documentare questa cosa perché non ha senso Allora, qui abbiamo un gatto Oh, gatto Vabbè, lì c'è un gatto Che sta giocando con Adesso aspetta, aspetta, devo trovarlo Ragazzi, si vede qua Un fottuto topo Topolino, li fermo E sono mezz'ora che ci stanno giocando assieme Gatto Oh Dove vai? È lì Ah sì, è lì Vai su Niente, il topo è fermo Comunque Non è che sca Oh Lì Dai che l'hai visto Lì a destra A destra Dai che l'hai visto E niente, non lo tocca Il topo è lì E niente Ragazzi, ma cosa sto vedendo? Ragazzi, qua, se non lo vedete, qua Io non ho parole Ragazzi, ma i gatti mica se li mangiano i topi Sono amici questi due Ragazzi, sono amici questi due Cioè E lo guarda così Ragazzi, Tom e Jerry Io sono qua che parlo Se ne sbattono Stark C'è assurda storia Io non l'ho mai visto una roba così Ah va, va lì Ma Sì, gli tira le sberle Ma non Attenzione Forse si è incazzato Attenzione, la svolta Non sa Ah, il topo è lì Il topo è lì nell'angolino qua Oh, oh Attenzione Guarda minacciosa del gatto Potremmo assistere alla morte del topolino Invece no Non gliene fregno Poerino, no No Non lo fa Poerino, no Mi fa pena col topolino Cioè praticamente ci giochi Sto giocando Dice tu Sei la mia prima Però ti devo No, vabbè Assurda Adesso Provo a zoomare un po' di più Oh Dove cazzo è andato? Come dire? Il gatto lo guarda malissimo Dice Dove cazzo stai andando? Stupido No, vabbè Io Io Sono qua a 10 minuti Ma non riesco ad andarmene Perché assurda sta roba Ma cazzo va Torna Attenzione, torna Il topo lo aspetta Cioè non è che dici scappa il topo No, ancora li fermo Che stasso ho visto? È un cane Mi sto Stasso viene addosso a me Niente Prova a fare una foto, dai Mettiamo via Ciao topolino Spero che non ti ammazzi Che riusci a super Ma che bello carino E niente ragazzi Gigi Saluta il canale Saluta tutti Ciao Purtroppo da qui in avanti Non ho più nessun video da mostrarvi Però vi posso dire Come è andata a finire A un certo punto Il topolino ha deciso di scappare Era inseguito E braccato dal gatto Anche se Non ha mai avuto il coraggio Di mangiarlo Così ad un certo punto Il topolino ha approfittato Di un momento favorevole In pratica stavano passando Due cani A passeggio con i loro padroni Il topolino ha iniziato Proprio a correre In quella direzione Così che il gatto Che lo stava inseguendo Non poteva avanzare Ovviamente Il topo quindi Era riuscito ad insinuarsi In una piccola fessura E il gatto È rimasto Un po' tutto Da qui viene L'ultima clip Che ho girato Questa Hai visto amico mio? Eh? Hai visto? Eh inutile che mi agoli Questa è la catena alimentare Amico mio No No Cazzo Vabbè Sono stato un po' zi Mentre ragazzi Si conclude qui il tutto Spero che Vi siate divertiti Nel caso Vi ricordo di lasciare un like Di iscrivervi al canale Noi ci vediamo Ad un prossimo video Ciao a tutti Ciao a tutti Ciao a tutti Ciao a tutti Ciao a tutti